tortellini alla bolognese allora tortellini alla bolognese chi è che non ha mai mangiato i veri tortellina brodo bolognesi ma ora ora la legge gli è cambiata è cambiata gli è vietato mettere in maiale tortellino viene un pochino rimodificato e io ho trovato questa ricetta su internet spettacolare si mette in questo tegamone in questo wok a bollire quest'acqua rafferma quest'acqua l'hanno presa nel pozzo nero nel residuo dello scarico dello sciacquone secondo me si va a mettere i nostri tortellini secchi tipici bolognesi senza maiale perché sennò si è in galera cambia la legge cambia tutto allora e si va a dare una bella rimestata ma che fa rigira tortellini ma non vanno a me a rigirare non è mia una bracciola e rigira l'acqua e che fa allora tempo di cottura attenzione 20 minuti qualora mancasse l'acqua si va a riabboccare gli ha buttato l'acqua fredda mentre stavano finendo di cuocere gli ha bloccato la cottura ma di un trucchetto che si fa apposta per fare rimanere il tortellino al dente andiamo a preparare intanto la nostra tipica piadina romagnola emiliano romagnola la emilia romagna allora vedete si va a ricinagnine finché deve essere cotta che spettacolo tipica turca e bolognese andiamo a preparare il nostro condimento cipolla pomodoro e cavolo versa o cavolo cappuccio e peperoncino a chi di garba salsa yogurt e rizza che questa è la base del tortellino alla bolognese allora andiamo a scolare i nostri tortellini ormai saranno 8 gli a due giorni e osce non sono pandoro infatti gli hanno gonfi i capelli indicato di lavandino di davello e quindi ecco il trovolaio e su diciamo chiaro vai buttaci anche il residuo lì in lavandino a meno che fa tutto un pappone gli è più saporito allora preparazione carta stagnola secondo me lui la carta stagnola l'usa anche in un altro modo comunque si va a mettere il nostro tortellino tutte le volte è un vero bolognese vedo nostra di genere morida e dispiacere secondo me salutiamo anche i nostri amici bolognesi sono tantissimi e si va a mettere questo in questa piadina che ora ci mostrerà come riempignere allora il tortellino va tagliuzzato per il benino perché rimane più si mastica meglio e vai e vai così brava e trogolaio e porcaio ma che scherzo si mette c'è anche la stagnola meno evidenti tu senti e scintille dopo allora pomodorino pomodorino cavolo ci sta bene il cavolo la cipollina città bene il tortellino della sua morte e peperoncino pizzicante a chi di garba chi ogni garba non ce lo mette un paio allora vai cipolla tu senti che fiatella e d'altronde il tortellino si sposa comunque salsa yogurt e certo certo anch'io quando fa tortellino a brodo ci metto sempre la salsa yogurt e andiamo a richiudere il tutto con manualità con la carta stagnola immancabile perché gli dà quel saporino che non so che e vai che classe vedi ciò domestichezza per fa queste cose non tutti sanno non toscana non si sa noi non si sa fare la bistecca ma queste cose non si sanno fare bisogna ammettilo eccolo qua il vero tortellino alla bolognese senza maiale senza maiale mi raccomando fate cazzatevi che si è in galera si è in galera io a bologna sarò esiliato però poi tanto c'ho mia da andare bu stra otra cosa pui prendiamo la tuaasında attra markifende in tue un sen si